Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come La famosa conduttrice Silvia Toffanin distrugge completamente Alex Belli umiliandolo davanti all'ex Vippona Soleil Sorge Tutti retroscena su quanto accaduto in diretta. Silvia con Alex e Soleil Come ben saprete in questi ultimi giorni non si fa altro che parlare del grande fratello Vipp, dopo ben sei mesi all'interno della casa il percorso dei numerosi concorrenti è giunto ormai al termine È doveroso quindi capire come tutti coloro che erano presenti all'interno della casa hanno vissuto ed affrontato determinate situazioni Per questo motivo infatti le conduttrici dei più famosi salotti televisivi fanno a gara per contendersi per prime gli ex Vipponi Come ben saprete la Giffina Sorge ha interamente dominato la scena fin dal principio, il suo avvicinamento al Vippone Alex Belli ha scatenato letteralmente un putiferio e per mesi non si è affatto altro che parlare del triangolo amoroso creatosi all'interno della casa Silvia Toffanina Verissimo.Come ben saprete, dopo la squalifica di Belli dalla casa, la conduttrice in questione decise di invitarlo a sedere nel salotto di Verissimo All'epoca i discorsi dell'ex concorrente erano principalmente concentrati su amore libero, poliamore, insomma argomenti non del tutto apprezzati dalla presentatrice La quale chiese infatti spiegazioni poiché non reputava possibile una situazione del genere Silvia Toffanina umilia sfudoratamente Alex Belli davanti a Soleil sorge in diretta televisiva, cosa è successo? La Giffina, nonostante l'incredibile importanza della sua presenza all'interno della casa, ha dovuto abbandonare definitivamente il gioco ad un solo passo dalla finale Nonostante questo però lei è apparsa soddisfatta del suo percorso Inoltre, in queste ultime settimane, sotto gli occhi di tutta l'Italia, ha avuto il modo di chiarire la situazione con Alex una volta per tutte con l'aiuto di Delia Duran Ebbene, dopo la sua eliminazione la conduttrice ha deciso di invitarla nel suo salotto Silvia Consoleil e Alex.Dopo varie chiacchiere, la donna ha confessato di aver seguito attentamente il suo percorso nella casa e quindi, ha deciso di augurarle tutto il bene del mondo ed un futuro pieno di avventure Prima che l'ex Giffina potesse andarsene però alla presentatrice è scappato un dettaglio che non è passato affatto inosservato Sei stata una super protagonista e ti auguro tante cose belle Di poter chiarire la tua storia personale se è quella che ti fa stare bene e di liberarti di Alex Lo posso dire? L'ho detto, mi è uscito dal cuore. È finita? Game over Punto queste sono le parole che la conduttrice si è lasciata stuggire davanti a tutta Italia, non è di certo la prima volta che esprime il suo pensiero negativo nei confronti dell'ex concorrente, ma mai lo ha fatto in modo così esplicito Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video